Allora, Giordano Grugiani, a parte dottor La squadra è qui che sta facendo anche il bisboccia Allora, Giordano, cosa ti porti a casa di questa serata? Una serata amara Una serata amara perché abbiamo creato il gioco ma alla fine non abbiamo portato a casa la vittoria Quindi una serata un po' amara per noi Vabbè, come parlavamo anche con Gabriele Palandri Comunque la Marlazio molto rimaneggiata con assenze pesanti Ha comunque in qualche modo opposto il suo gioco a un'altra primatista in classifica Ma io penso di sì Poi le assenze, insomma, sì Diciamo che poteva cambiare la partita ma di poco Perché comunque l'organico c'è I giocatori che sono entrati in campo sono validi come quelli che stanno fuori Siamo comunque una buona compagine per il prossimo campionato E per questo torneo che stiamo facendo E speriamo che questo ci serva da lezione Per altre vittorie in questo torneo Ok, grazie Giordano, buona serata Grazie a lei Grazie 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 Grazie